Incidente questa mattina poco dopo le 9.30 a Bagnacavallo, sulla strada provinciale 253 all'incrocio fra via Milano e via Cavour. Un uomo di 88 anni stava uscendo dallo svincolo di via Cavour quando una Renault Clio che andava in direzione Bagnacavallo lo ha aortato. Dai primi rilievi sembra che l'uomo non fosse sulle strisce pedonali. Sul posto, polizia municipale, automedicalizzata e ambulanza che ha poi trasportato l'uomo, che non è in condizioni gravi, all'ospedale di Lugo.